ciao a tutti e benvenuti su azalea channel oggi vi porto un breve video della playlist trucchi e codici era da tanto tempo che non portavo un video di questo tipo ma adesso ho scoperto un trucchetto che a me è tornato molto utile e che non sapevo si potesse fare fino a poco tempo fa perché l'ho scoperto da poco e quindi magari può essere utile a chi ancora non lo conosce allora il trucco riguarda l'espansione stagioni nonostante questa espansione sia uscita ormai da un po di tempo io però questa cosa l'ho scoperta da poco e si tratta come cambiare la stagione in corso quindi se voi siete in estate come sono io al momento e volete andare in inverno o in primavera lo potete fare in modo molto semplice senza dover aspettare ovviamente che passino i giorni sul calendario e come si fa in un modo veramente molto facile allora apriamo la barra dei trucchi come al solito per chi non lo sapesse vi ricordo che la barra dei trucchi si apre premendo contemporaneamente i tasti shift control e c ok si è aperta la barra adesso andiamo a scrivere questo semplice codice seasons con la s finale punto set underscore di nuovo season questa volta senza s finale spazio e poi mettiamo un numero compreso tra zero e tre a seconda di quale stagione vogliamo ottenere se mettiamo zero andremo in estate se mettiamo uno andremo in autunno se mettiamo due andremo in inverno se mettiamo tre andremo in primavera io adesso sono in estate quindi voglio andare in autunno metto uno e premo invio ed eccoci qua vedete siamo arrivati in autunno in maniera molto semplice ora vi faccio vedere anche come andare in inverno e in primavera anche se ve l'ho praticamente già detto quindi scriviamo seasons con l'S finale punto set underscore season spazio 2 per andare in inverno eccoci qua in inverno e a questo punto andiamo anche in primavera già che ci siamo quindi seasons punto set underscore season spazio 3 e olè siamo arrivati in primavera quindi vedete che è un trucco davvero semplicissimo anche da ricordare vi faccio però vedere una cosa qui vedete sono al quinto giorno su 14 di primavera quindi cambiando stagione non incomincerete dal primo giorno di di quella stagione ma dal giorno in cui stavate prima cioè io prima stavo al quinto giorno su 14 d'inverno adesso sono al quinto su 14 in primavera quindi iniziale sempre dallo stesso giorno da cui partivate per capirci e niente ragazzi quindi questo è tutto un trucchetto molto semplice magari molti di voi lo conoscevano già però per altri magari può essere utile io l'ho trovato davvero molto utile per creare le mie storie ma ad esempio può essere utile anche per chi vuole che una stagione duri di più perché oltre a stabilire la durata delle stagioni in maniera classica quindi andando su opzioni ve lo faccio vedere perché magari c'è qualcuno che ha preso stagioni da poco e ancora non lo sa andando qua su stagioni avete la possibilità di scegliere la durata 7 giorni 14 giorni o 28 giorni quindi magari volete che una stagione duri più a lungo possibile perché vi piace particolarmente tipo l'inverno vi piace tantissimo la neve e volete giocare sempre con la neve mettete 28 giorni però ovviamente più di 28 giorni quella stagione non può durare dovete aspettare poi l'anno successivo diciamo e quindi magari voi passate 28 giorni d'inverno appena cambia stagione scatta la primavera quindi il primo giorno di primavera potete con il trucchetto tornare di nuovo in inverno e farvi altri 28 giorni d'inverno cioè questo può essere un qualche possibilità di utilizzare questo trucco ecco tanto per darvi qualche idea perché ci ho pensato anche io in effetti e niente ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia stato utile mettete il like se vi è piaciuto fatemi sapere se lo conoscevate e se non lo conoscevate se magari lo userete ecco noi ci vediamo presto nei prossimi video ciao 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 ciao